è cosa molto comune secondo la mia esperienza trovare dei fogli ripiegati in vecchi libri mentre è rarissimo che vi sia qualcosa di veramente interessante eppure succede ed è per questo motivo che non bisognerebbe mai strapparli prima di averli letti dunque era mia abitudine prima della guerra comprare di tanto in tanto dei vecchi registri di buona qualità cartacea con parecchie pagine bianche da poter strappare e utilizzare per i miei appunti in particolare ne comprai uno nel 1911 per una modica somma era molto pressato e la sagoma era stata deformata dai numerosi foglie strane inseritivi all'interno i tre quarti di questo materiale aggiuntivo avevano perso ogni importanza per l'umanità ma una piccola parte no si trattava di annotazioni fatte sicuramente da un avvocato perché recavano il titolo il caso più strano che mi sia mai capitato insieme alle sue iniziali e a un indirizzo presso la gray scene si tratta solamente di appunti per un caso principalmente di indicazioni rese da testimoni l'accusato invece non compare mai l'incartamento non è completo ma anche così rappresenta un vero enigma nel quale sembra entrasse il soprannaturale potete benissimo cercare di capirne qualche cosa visto che ora vi descriverò la scena e vi narrerò la storia la scena si svolse a islington nel 1718 e il mese era quello di giugno un luogo di campagna dunque e una bella stagione il dottor abel un pomeriggio mentre passeggiava in giardino in attesa che gli portassero il cavallo per compiere il consueto giro di visite della giornata venne raggiunto dal suo servitore di fiducia luke jennett che era con lui da quasi 20 anni gli dissi che desideravo parlargli e che quello che dovevo dirgli poteva richiedere all'incirca un quarto d'ora di conseguenza mi invitò a seguirlo nel suo studio dove ci mettemmo a sedere gli comunicai che con mio rammarico dovevo recarmi in un altro posto lui volle saperne la ragione in considerazione degli anni che avevo trascorso da lui e gli dissi che se mi avesse voluto esonerare dal servizio mi avrebbe fatto una grande cortesia poiché sembrerebbe una forma comune perfino nel 1728 volevo restare in buoni rapporti con tutti quanti da quel che ricordo mi rispose che per lui era lo stesso ma che desiderava sapere perché avevo cambiato idea dopo tanti anni aggiungendo sai bene che se mi lasci ora non potrò ricordarti nel mio testamento gli dissi che me ne rendevo perfettamente conto allora disse lui devi avere qualche lagnanza e se posso vorrei appianare le cose al che gli raccontai non potendo più evitarlo la faccenda del precedente affidavit e delle lenzuola del ripostiglio dicendogli che è una casa in cui accadevano certe cose non era un luogo fatto per me a quel punto guardandomi molto accigliato non disse altro a parte il darmi dello sciocco e dirmi che mi avrebbe dato quello che mi spettava l'indomani mattina quindi montato a cavallo se ne andò per quella notte dormi dal marito di mia sorella dalle parti di battle bridge e la mattina dopo mi alzai di buon'ora per recarmi dal mio ex padrone il quale mi rimproverò per non aver dormito in casa sua e tolse una corona dal salario che mi doveva dopodiché lavorai in diversi posti e non sentii più parlare di lui alla fine venni assunto dal dottor queen nella sua casa di dotz hall a islington nella testimonianza dell'uomo c'è una parte alquanto oscura per l'esattezza il riferimento al precedente affidavit e alla faccenda delle lenzuola la affidavit non si trova nella documentazione e temo che fosse stato messo da parte per essere letto in tribunale e che poi non fosse stato più reinserito nell'incartamento ma quanto alla natura della storia la si può solo indovinare più tardi ma per il momento non abbiamo indizi a nostra disposizione il pastore di islington jonathan pratt è il secondo a rendere testimonianza egli fornisce particolari sulla posizione e la reputazione del dottor abel e del dottor queen che esercitano entrambi la professione nella sua parrocchia non si pensi dice che un medico sia un regolare frequentatore delle preghiere serali e mattutine né tanto meno dei sermoni del mercoledì considerando tuttavia i loro impegni direi che entrambi i dottori adempivano ai propri obblighi verso la chiesa anglicana allo stesso tempo devo fare dal momento che mi ha chiesto la mia opinione personale usando il linguaggio erudito un distinguo il dottor a mi dava da pensare mentre il dottor q mi pareva un onesto credente senza voler andare a fondo in merito alle sue convinzioni il primo si interessava a problemi ai quali la provvidenza così almeno io credo ha deciso che non dobbiamo avere risposta in questa vita mi chiedeva per esempio dove si trovano secondo me quegli esseri che al tempo della creazione secondo alcuni non si opposero agli angeli ribelli né si unirono a loro nella rivolta come ovvio la mia prima risposta fu una domanda ovvero che cosa gli facesse credere che esistessero e a tale domanda non vi è risposta nemmeno nelle scritture a quanto pareva dal momento che sono entrato nell'argomento tanto vale che le riporti tutta la conversazione egli si basava su certi passi come il discorso tra antonio e il satiro ma riteneva possibile citare a sostegno della sua tesi anche alcune parti della bibbia e inoltre mi disse lei sa che è una credenza universale tra tutti coloro che passano fuori il giorno e la notte e aggiungerei che se la sua missione la chiamasse continuamente come invece capita a me per le strade di campagna nel cuore della notte non resterebbe sorpreso come lo è adesso da quello che affermo dunque lei è dell'opinione di john milton gli domandai e ritiene che milioni di creature fatte di solo spirito percorrano la terra invisibili all'uomo sia mentre dormiamo che quando siamo svegli non capisco perché mi rispose lui milton le chiama invisibili anche sarà cieco quando l'ha scritto quanto al resto sì ritengo che avesse ragione comunque ribattei anche se non con la sua frequenza anche io a volte vengo chiamato lontano molto tardi ma non ho mai pensato di poter incontrare un satiro nelle nostre strade di islington in tutti questi anni che sono stato qui e se lei avrà più fortuna di me sono sicuro che la royal society sarà felicissima di saperlo rammento questo scambio di battute perché il dottorà se la prese molto a male e se ne andò bruscamente dalla stanza borbottando qualcosa contro quei preti inaciditi e arroganti che non hanno occhi se non per il messale o per una pinta di vino ma quella non fu l'unica volta che avemmo una discussione simile una sera infatti arrivò tutto allegro e lo cuace ma dopo un po si mise a sedere davanti al fuoco sprofondando in un silenzio cupo per farlo uscire dalle sue riflessioni gli dissi scherzosamente che non sapevo che fosse andato ad un appuntamento con uno dei suoi strani amici ma la mia osservazione invece gli fece assumere un'espressione preoccupata quasi atterrita e mi disse ah era lì non l'ho vista chi l'ha fatta entrare poi in tono più pacato di quale incontro va parlando credo di essermi appisolato al che gli risposi che avevo in mente strani incontri lungo la strada con fauni e centauri e non un sabba delle streghe ma lui la prese sul serio veramente disse non sono colpevole né dell'una né dell'altra cosa ma la trovo molto più scettico di quanto ci si aspettasse dato il suo abito se le interessa davvero sapere che cosa c'è nella stradina buia dovrebbe parlare con la mia governatrice che da bambina viveva in fondo al vicolo sì feci io e con le vecchie dell'ospizio e i bambini dell'orfanotrofio se fossi in lei andrei a chiedere una pillola al suo dottor queen per schiarirsi le idee maledizione a queen borbotto non mi parli più di lui questo mese mi ha portato via quattro dei miei pazienti migliori sono sicuro che è stato quella malalingua di jennett che un tempo stava da me che non tiene mai la sua lingua a posto bisognerebbe condannarlo alla gogna ad averne il coraggio quella devo dire fu l'unica volta che dimostrò dell'astio contro il dottor queen e contro jennett e dal momento che era mio compito feci del mio meglio per convincerlo che si sbagliava sul loro conto tuttavia non si può negare che diverse famiglie rispettabili del circondario lo avevano trattato freddamente e non avevano più intenzione di restare in cura da lui alla fine disse che non si trovava troppo male a islington ma che poteva permettersi di vivere agiatamente ovunque volesse e che in tutti i casi non aveva nulla contro il dottor queen adesso mi sembra di ricordare quale fu l'affermazione da parte mia che gli fece cambiare umore successi credo quando gli parlai di certi trucchi che mio fratello aveva visto alla corte di un rajah nelle indie orientali sarebbe davvero comodo commentò il dottor abel se esistesse un sistema per acquisire il potere di far muovere gli oggetti inanimati come se la scure si rivoltasse contro colui che l'ha sollevata era una cosa del genere che stava pensando beh non direi che avessi in mente un tale potere pensavo alla capacità di spostare un libro dallo scaffale o perfino di ordinargli di aprirsi alla pagina giusta era seduto davanti al fuoco era una notte fredda quando d'improvviso tese una mano e in quel momento l'attizzatoio gli cadde ai piedi con un gran fracasso sicché non riuscì a sentire che altro stava dicendo ma gli dissi che non mi veniva in mente nessun sistema come lo definiva lui del tipo di quello di cui parlava svincolato da una condizione meno pesante di quanto un credente fosse disposto a pagare al che annui e disse tuttavia non ho dubbi che simili accordi sarebbero molto allettanti molto convincenti a lei invece non piacerebbero vero no credo proprio di no ecco tutto quello che so delle idee del dottor abel e dei rapporti che parevano fra i due uomini il dottor queen come ho già detto era una persona semplice e onesta una persona alla quale mi sarei rivolto e ad essere sinceri l'ho anche fatto per chiedere un consiglio tuttavia di tanto in tanto non era scevro neanche lui da pericolose fantasie ad un certo punto cominciò a fare dei sogni così tormentati che non riusciva a tenerseli per sé li raccontava allora ai suoi conoscenti e questi a loro volta li raccontavano a me ero a cena in casa sua e mi accorsi che non aveva intenzione di farmi andare via all'ora solita se se ne andrà mi disse sarò costretto a mettermi a letto e sognerò la crisalide potrebbe sognare anche di peggio gli risposi non credo mi rispose lui scuotendo la testa come chi non è contento del corso dei propri pensieri volevo solo dire ribattei che la crisalide è una creatura innocente non questa mi rispose lui e non mi va di pensarci tuttavia pur di non perdere la mia compagnia si decisa a dirmi viste le mie esistenze che si pensava di un sogno che aveva fatto già diverse volte e ultimamente anche più di una volta a notte sognava di provare un impulso irresistibile ad alzarsi e uscire dalla stanza così si vestiva e scendeva fino alla porta del giardino per poter uscire doveva sollevare un paletto poi si ritrovava all'aperto e in un certo punto del giardino che era sempre illuminato dalla luna piena dove la vegetazione era scarsa si sentiva costretto a scavare dopo un po la pala portava alla luce una specie di telo chiaro di cotone o di lana e allora lui cominciava a pulirlo dalla terra con le mani era sempre uguale nella misura di un uomo e a forma di crisalide leggermente dischiuso ad una delle due estremità non sapevo dire a questo punto quanto sarebbe stato felice di correre via e tornare in casa ma la fuga non era così semplice e così pur sapendo benissimo che cosa avrebbe scoperto apriva l'involucro che a volte pareva anche una membrana e si ritrovava sotto gli occhi una faccia dalla pelle rosea e liscia la quale non appena la creatura si destava si trasformava nella maschera della morte raccontarlo lo agitava a tal punto che una grande compassione mi indusse a restare in piedi con lui per buona parte della notte a parlare del più e del meno mi disse che ogni volta che faceva questo sogno si svegliava con la sensazione di soffocare a questo punto viene inserito un altro estratto della lunga testimonianza di luke jennett non ho mai raccontato storie sul conto del dottor abel a nessuno del vicinato mentre mi trovavo a servizio da un'altra persona tuttavia ricordo di aver parlato agli altri domestici della faccenda delle lenzuola ma sono sicuro di non aver detto loro chi erano le persone implicate e quelli ascoltarono la mia storia con una tale diffidenza da farmi pensare che avrei fatto meglio a tenermela per me e quando sono tornato a islington e ho scoperto che il dottor abel era ancora lì nonostante mi avessero detto che aveva lasciato il paese mi resi conto che era necessaria la massima discrezione perché quell'uomo mi incuteva timore ed è certo che non avevo la minima intenzione di spargere chiacchiere sul suo conto il mio padrone il dottor queen era un uomo giusto e onesto incapace di fare del male ad una mosca sono sicuro che non alzò mai un dito né disse una sola parola per convincere i pazienti a lasciare il dottor abel per mettersi in cura da lui anzi non volle saperne finché non si è reso conto che se non fossero andati da lui si sarebbero rivolti ad un altro medico di città pur di non andare più da chi li aveva curati fino a quel momento credo si possa provare che il dottor abel venne dal mio padrone più di una volta avevamo una nuova cameriera arrivata dall'herfordshire la quale mi chiese chi era il signore venuto a cercare il padrone ossia il dottor queen che non era in casa e che pareva estremamente deluso di non averlo trovato mi disse che quell'uomo ad ogni modo doveva conoscere benissimo la casa perché era entrato all'improvviso nello studio e poi in dispensa e alla fine in camera da letto le domandai di descrivermi che aspetto avesse e la sua descrizione pareva rispondere a quella del dottor abel in seguito inoltre mi disse di aver rivisto il medesimo uomo in chiesa e che qualcuno le aveva detto che si trattava del dottore fu dopo la sua visita che il padrone cominciò ad avere i suoi incubi e a lamentarsi con me e con gli altri in particolare del guanciale e delle lenzuola disse che bisognava comprarne di nuove e che ci avrebbe pensato lui infatti riportò a casa un rotolo di stoffa che riteneva della qualità giusta ma non disse dove l'aveva comprata vi erano dei ricami comunque una coroncina ed un uccello le donne dissero che era un lino molto raro e pregiato e il padrone dichiarò che non aveva mai dormito così bene come in quelle lenzuola anche le piume del cuscino erano morbide come una nuvola io stesso osservai diverse volte quando andavo a svegliarlo la mattina che aveva la testa quasi nascosta dal guanciale dopo il mio ritorno a islington non avevo mai avuto l'occasione di parlare con il dottor abel ma un giorno mi incontrò per strada e mi chiese se stavo cercando un altro lavoro al che gli risposi che mi trovavo bene lì dove ero e lui mi disse che ero uno stupido e che prima o poi mi sarei ritrovato di nuovo senza lavoro il che in effetti si dimostrò vero a quel punto si riprende con la testimonianza del dottor pratt il giorno 16 venne buttato giù dal letto alle prime luci erano circa le 5 del mattino da un messaggio che diceva che il dottor queen era morto o che stava per morire arrivato a casa sua scoprì che era vero tutti gli abitanti della casa tranne il domestico che mi fece entrare si erano già radunati in camera sua intorno al letto ma nessuno osava toccarlo era sdraiato al centro del letto sul dorso senza che si notasse nulla di strano eppure aveva l'aspetto di chi è già pronto per la fossa le mani mi pare erano incrociate sul petto l'unica cosa strana era che non gli si vedeva la faccia perché la coprivano i limbi del guanciale allora tolsi immediatamente il cuscino rimproverando i presenti specie il domestico per non essere corsi in aiuto del padrone questi tuttavia si limitò a guardarmi e scuotere la testa non sperando più che potesse essere ancora vivo a dire il vero anche senza un minimo di esperienza era chiaro per chiunque che il dottore non solo era morto ma morto per soffocamento né era possibile ipotizzare che il decesso fosse stato causato incidentalmente dal chiudersi del cuscino sopra la sua faccia altrimenti sentendosi soffocare lo avrebbe spostato con la mano le pieghe delle lenzuola inoltre come notai in quel momento erano perfettamente lisce intorno a lui la prima cosa da fare era chiamare un medico a questo avevo pensato io prima di uscire di casa e avevo mandato a chiamare il dottor abel apprese invece che questi era via e il chirurgo più vicino senza praticare l'autopsia non ci poteva dire più di quello che già sapevamo quanto all'ipotesi di un malintenzionato entrato nella camera la prossima cosa da chiarire era ben visibile che la chiusura della porta era stata divelta dai montanti e che i montanti erano stati scardinati dallo stipide con forza e c'erano sufficienti testimoni nonché il fabbro ad affermare che l'opera era stata fatta pochi minuti prima del mio arrivo trovandosi inoltre la camera in cima alle scale non era facile arrivare dalla finestra e questa del resto non mostrava segni di forzature né impronte di piedi sul davanzale o sul terriccio sottostante la testimonianza del chirurgo ovviamente fa parte delle dichiarazioni rese durante l'inchiesta ma poiché si limita ad indicare il perfetto stato degli organi interni e la coagulazione del sangue in varie parti del corpo non è necessario ripeterla qui di seguito il verdetto fu morte per intervento divino insieme agli altri fogli ce n'è uno che all'inizio pensavo fosse stato inserito per errore dopo averci riflettuto tuttavia sono riuscito ad indovinare la ragione della sua presenza si riferisce alla manomissione di un mausoleo nel middlesex eretto in un parco che ora non esiste più di proprietà di una nobile famiglia che non intendo nominare la causa sembrerebbe non fu la resurrezione del morto ma il furto il resoconto è secco e succinto non lo riporterò dirò soltanto che un commerciante di londra dovette pagare pesanti penalità per aver ricettato merci rubate proveniente dalla manomissione del mausoleo